Il Porto, in caduta libera dopo il promettente avvio stagionale, cerca di fermare l'emorragia dei risultati che lo attanaglia ormai da tempo immemorabile, per evitare di entrare a pieno titolo nella drammatica zona play-out. Le intenzioni dei pescaresi si scontrano con le ambizioni del Pineto, avversario odierno che invece vuole il passaporto per il terzo posto solitario in classifica. La gara, giocata inizialmente al piccolo trotto dalle due contendenti, ha soltanto al ventitraesimo il primo motivo di interesse. Nell'occasione il calcio piazzato di Adorante si perde sopra i regni della porta pescarese. Lo stesso Adorante si rende pericoloso tre minuti dopo con il suo stacco aereo che spedisce il pallone sul pallo alla sinistra di Di Giacomo. Il Porto non riesce a sfondare in avanti, lasciando il proscenio e gli avversari che tentano una nuova sortita a ridosso della mezz'ora. Stavolta è Romanelli che arriva dalle retrovie e prova il siluro dal limite con il pallone che non inquadra il bersaglio. Gli assalti pinentesi si concretizzano al trentunesimo quando Macera infila il pallone nel sacco anche se in maniera alquanto furbesca. Mentre infatti i giocatori del Porto sono intenti a protestare con il direttore di gara, Adorante batte a sorpresa per Macera che dà limite in fila di Giacomo con un velenoso diagonale che non lascia scampo al portiere avversario. La squadra di casa non si dà per vinta e in chiusura di tempo riesce finalmente ad approdare in area avversaria, anche se lo stacco aereo di Iacone si spegne sul fondo. La squadra di casa sembra tornare in campo con diverso atteggiamento e prova la battuta a rete con Vaira la cui girata in area giustifica la presenza tra i pali di Difuria. Dalla parte opposta Coppa fallisce una ghiotta opportunità mandando il pallone sul fondo da due passi. Poco dopo Di Julio prova la girata in area ma un difensore avversario appostato sulla linea di porta evita il pareggio pescarese. Gli ospiti sempre pericolosi tornano in avanti con il solito Adorante il quale lascia partire un gran siluro dal limite che si perde di poco a lato. Più incisivi i due assalti successivi che coincidono con altrettante segnature. Al ventisettesimo Di Giacomo che si oppone alla fucilata di Pica non può trattenere la sfera che arriva dalle parti di Tommaso Assogna implacabile nell'occasione. Alla mezz'ora cale il sipario con il tris pinetese firmato da Adorante che corona in tal modo una prestazione davvero superlativa. Il numero 11 pinetese infila il malcapitato Di Giacomo con un gran tiro dal limite d'area vanamente deviato dal tuffo disperato del portiere pescarese. Il porto ormai allo sbando rischia il tracollo sul pericoloso inserimento di Assogna il cui traversone viene ribattuto da Febo che nell'occasione rischia la clamorosa autorete. Il pineto centra quindi un importante successo che gli consente di mantenere il terzo posto solitario visto il contemporaneo K.O. del Perano. Per il porto la stagione prosegue sempre peggio con un calendario tutt'altro che abbordabile che non lascia presagire nulla di buono. La partita di oggi è stata combattuta soprattutto all'inizio contro una squadra motivata perché aveva necessità di punti in quanto è in zona play out immagino. Noi altrettanto motivati perché intendiamo disputare i play off quindi ci siamo quasi ormai e abbiamo disputato una buonissima gara, tre gol, altre occasioni non finite bene però soprattutto la prestazione della squadra è stata molto molto positiva. Anche oggi devo commentare una sconfitta perché abbiamo incontrato una squadra molto forte che ha sfruttato tutti i nostri errori, abbiamo preso un gol da ingenio sul primo, eravamo tutti sulla palla a protestare con l'albitro, hanno battuto una punizione veloce e ci siamo fatti trovare impreparati. Devo dire che ogni tiro che hanno fatto hanno trovato la porta quindi è un momentaccio che dobbiamo cercare di superare. Al limite ci prepareremo per i play out dove dovremo dare il massimo contro squadre che sono alla nostra portata. Oggi sinceramente il Pineto mi ha fatto una grossa impressione, sono tranquilli, giocano molto bene al calcio e conosco bene l'allenatore e tanti giocatori che hanno e con queste prerogative ci hanno messo in difficoltà. Però la mia squadra fino all'1-0 è stata in partita, abbiamo fallito il gol dell'1-1 e poi è arrivato questo secondo gol che ci ha un po' tagliato le gambe.